che domani dovrà presentarsi in tribunale a Catania, l'accusa di sequestro di persona. Ragione Sallusti che tantissimi pensano che alla fine si risolverà con un'archiviazione tutta questa storia. Lo pensa anche lei? Fa piacere vedere che ci siano tanti esperti giuristi, tantissimi, capisco, migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia. Se si studia diritto per molti anni, si approfondisce la giurisprudenza per capire di che si tratta, è come se qualcuno o tantissimi pretendessero di dire la loro opinione su un'operazione al cervello, cioè sostituendo le loro competenze a quelle del neurochirurgo. Il diritto è una materia molto complessa e diciamo qualche cosa di specifico, non nel merito del processo, perché a differenza di chi va a manifestare davanti ai tribunali, e questo sì è un atto che fa dubitare della saldezza della democrazia, io non amo interferire con i processi in corso. Quindi parliamo in teoria di che cos'è il sequestro di persona e quando può essere invocata, diciamo così, la scriminante, si chiama in questo modo, dell'esercizio del diritto o dell'adempimento del dovere. Il sequestro di persona è quando io privo della libertà personale qualcuno, che significa che se chiudo a chiave qualcuno in una stanza, oppure se impedisco a un barcone che contiene delle persone di scendere a terra e loro hanno diritto di scendere, o se chiudo delle persone in uno stadio, o scegliete voi, diciamo, la formula che preferite, questo è privare della libertà personale. La libertà personale è un diritto tutelato dalla Costituzione, l'articolo 13 della Costituzione dice che la libertà personale può essere limitata solo da un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria. Se questo non c'è, andiamo nel territorio dell'articolo 605, che è appunto il sequestro di persona. Nel territorio dell'articolo 605 è possibile immaginare delle scriminanti, in particolare da taluni. In questo caso si sostiene che si sia trattato di un atto politico. Allora la giurisprudenza sulla scriminante, devo dare una spiegazione tecnica. Sì, sì, ma e quindi aspetti perché... No, io non voglio dire come finirà il processo. No, lo so che lei non lo può dire. Dico che in questo caso, secondo la mia opinione, e l'ho già detto prima anche in questa trasmissione, non può essere invocata la natura politica dell'atto, perché la giurisprudenza e la dottrina, cioè gli studiosi, non i giuristi della domenica come i 60 milioni di commissari tecnici, dicono che è possibile immaginare una scriminante per reati commessi in campo politico, ma vanno escluse tre categorie di reati, cioè quelli che colpiscono gli interessi superiori dell'individuo inviolabili, che sono la libertà personale, l'integrità fisica e la vita. In questi casi semplicemente non è possibile invocare una scriminante. Questo è un discorso tecnico. Il resto sono chiacchiere più o meno eleganti da base.